Si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prosecuzione e purtroppo, insomma, a parte qualcosa che è stato approvato, debiti fuori bilancio, c'è stata anche la discussione su alcuni che non sono passati o comunque devono essere revisionati, ma il dato politico è che non c'era la maggioranza o comunque quella parte di consiglieri che sostiene il sindaco Ettore Di Ventura in Consiglio Comunale per discutere, per approvare il piano triennale delle opere pubbliche. Sì, innanzitutto sono stati esitati praticamente tutti i debiti fuori bilancio che erano all'ordine del giorno, alcuni due sono stati respinti in quanto non riduruti dal Consiglio Comunale votabili ai sensi di tutta la normativa vigente della giurisprudenza della Corte dei Conti e quindi sono stati esitati negativamente. Quelli derivanti della sentenza sono stati invece esitati positivamente anche per evitare, soprattutto per evitare un danno alla città, perché chiaramente poi, come abbiamo già detto in altre occasioni, questi debiti fuori bilancio, noi non abbiamo il piacere assolutamente di averli in consiglio, ma dobbiamo esitarli, altrimenti poi generano interessi, generano sanzioni e potrebbero generare ulteriori esborsi per l'ente. Dopodiché abbiamo approvato il regolamento sulla toponomastica, che è stato realizzato e proposto dalla Commissione Consiliare, presieduta dal Consigliere Giuseppe Lo Giudice, che ha fatto un ottimo lavoro proprio nella predisposizione di questo regolamento, lavoro che proviene anche dall'epoca in cui era assessore l'architetto Massimo Moratore, che ha dato il suo contributo nella redazione di questo regolamento, nella qualità, e che è stato positivamente esitato in Consiglio a Canegatti. Ed è una cosa molto importante, abbiamo potuto vedere finalmente un regolamento sulla toponomastica, che riguarda la disegnazione dei nomi delle vie, e poi che riordina un contesto che ancora non era disciplinato dalla legge, ma non era disciplinato nel senso del comune di Canegatti, nel senso del regolamentare. Dopodiché, dopo aver esitato a un certo punto questo punto all'ordine del giorno, si è alzato il capogruppo della lista, il gruppo Canegatti Civica, Consigliere di Cata, il quale, visto che si doveva trattare l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è il piano giudinale delle opere pubbliche, che poi è un atto importantissimo per la città. Che ora era quando si doveva discutere questo punto? In che senso? L'ora, l'orario. L'orario mi pare attorno alle 10. Non tardissimo. Alle 22. No, non era tardissimo. Non c'è dubbio. Dopodiché, il Consigliere di Cata ha rappresentato l'assenza di buona parte del gruppo che sostiene l'amministrazione, ha detto che, sostanzialmente, vista l'importanza dell'argomento, è il caso di magari rinviare alla discussione, proprio in un'ottica di collaborazione, proprio per la città, una discussione in una successiva seduta consigliere in cui ci fosse una partecipazione più ampia dei consiglieri comunali. Poi, per questo, per l'importanza dell'argomento. Praticamente, eravate in aula, soltanto, diciamo, a parte lei e alcuni esponenti, insomma, che sostengono questa giunta, che erano due e tre, la maggior parte erano quelli che sono di opposizione al sindaco. Quindi, se si fosse discusso questo argomento e se si fosse andati anche ad un'eventuale approvazione, poteva anche essere bocciato o comunque questo argomento, naturalmente, visto che parliamo di una opposizione a questa amministrazione, l'atto proviene dall'amministrazione e questo documento poteva essere anche stravolto. Esattamente, poteva essere stravolto, poteva essere bocciato, poteva essere condiviso, non lo sappiamo, però è indubbio che il consigliere legato ha evidenziato questa circostanza, ha fatto la proposta di rinvio al 25 maggio, è stata accolta dall'unanimità questa proposta, è stata accolta da tutto il consiglio comunale, per cui il punto si discuterà il prossimo 25 maggio. La speranza è che vengano quelli che sostengono il sindaco, insomma. La speranza è sempre che vengano citati i punti in maniera partecipata, in maniera condivisa e comunque con il contributo di tutti, ma questo non è, non posso entrare nel merito della presenza o meno di gruppi di maggioranza o gruppi di opposizione, io ospico sempre che i lavori siano partecipati, che tutti diano il loro contributo. Certamente il consiglio comunale, quando affronta queste tematiche, i consigli comunali, io sono certo che siano sensibili alla partecipazione, per cui adesso questo tema lo affronteremo il 25 maggio, sperando che sia esitato in un senso o nell'altro, perché comunque si tratta di un atto fondamentale per la vita della città. Il suo ruolo su per parte di Presidente del Consiglio non lo esime, comunque da fare delle considerazioni, si è perso un po' di slancio in questi due anni, visto che siamo quasi a due anni dall'elezione del sindaco, soprattutto da parte dei gruppi che lo sostengono, anche se una parte di quelli che lo hanno sostenuto in consiglio comunale e durante le amministrative, quindi in campagna elettorale, adesso sono passati dall'altra parte della barricata. Guardi, io non so se si è perso slancio o meno, questo bisognerebbe chiederlo, diciamo, ai gruppi che sostengono, ai gruppi consiglieri che sostengono l'amministrazione, io su questo non posso rispondere, certamente non è scemato in me e in tanti consiglieri comunali e in tutti i consiglieri comunali, diciamo, l'interesse e l'impegno per la città. E perché non vengono allora quelli che sono stati eletti con l'Ettore di Ventura, secondo lei? Tutti motivi personali, tutti motivi impellenti? Ripeto, non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro.